Salve a tutti signori, benvenuti in questa puntata di questa serie su FIFA 22 Con la sua droghetta United Allora, io lo dico, questa puntata doveva essere una puntata fra i goletti di fast forward Ovvero, io che scorro avanti fino a giocare quello che alla fine è l'ultimo obiettivo che rimane Che obiettivamente rimane da giocare, ovvero la Champions League C'è un solo problema, me ne sono accorto proprio adesso, proprio un minuto prima di attaccare questa registrazione Voi sapete che quella che si trova ad essere prima in campionato irlandese Parte, o meno teoricamente dovrebbe partire dai playoff di Champions E vi faccio vedere, ora vi faccio vedere bene la situazione Questo è il campionato Champions League, perché noi lo scorso campionato l'abbiamo vinto E non ci siamo Non ci siamo noi E non c'è nessuna squadra irlandese Temo che si sia buggato Come si è buggato quella scorsa, no? Come si è buggato quella volta, vi ricordate? Allora c'è il discorso dell'allenatore Adesso non c'è neanche quello Io faccio avanti fast forward Ma se non posso giocare nella Champions Né nessun'altra competizione europea Questa sarà l'ultima puntata della serie Perché Perché mo' basta Perché anche mo' basta Perché non è Non è oggettivamente Non è oggettivamente possibile Tutto questo, anche supportare tutto questo Non è possibile Di un gioco che Tanto simulazione veloce Tanto campionato è stravinto Non stiamo neanche A badarci 3 a 2 Con Longford, ok Intervista post partita Giusto per fare Ok Però c'è E Non lo so Sono senza pari di ricordare C'è il discorso Del Del rincarico come allenatore nazionale Che avanti Ho buggato e tutto Adesso non c'è neanche quella scusa Adesso si è buggato Praticamente da solo Senza fare niente Ripeto Scorsa No, scorso campionato Ho no vinto Straminto Campionato E quindi Per lo meno di prima feo Ho dovuto giocare Invece non me ne hai fatti giocare Ora Chi è l'altro giocatore Vediamo un po' Il post squadra Non è a rischio Continua a lavorare sotto A cambiare carità Vabbè Ok Andiamo avanti Andiamo avanti A vedere un po' La situazione Mentre Ci offrono Rudiger E 97 milioni Per Chiroga Perché Alla fine Tutta una curiosità Vedi giocatore scampi Allora Rudiger Comunque Un signor difensore Anche se ormai vecchio Più 94 milioni Ormai Chiroga Ormai è diventato Fuori parametro Come giocatore Ora Io ripeto Continuo a scorrere Allora Faccio Anzi No Andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Facciamo conferenza stampa Facciamo tutto Più che altro Anzi Anzi Io non so perché Ma perché sto facendo conferenza No no Siamo in grande Questa ormai la faccio Però andiamo avanti Andiamo avanti E E niente Purtroppo Questa La carriera Di quest'anno È stata una carriera Costellata Di Di brutte robe Costellata Di problemi Di un gioco Che Che Mano a mano È È collassato Su se stesso Mentre vinciamo Un'altra Un'altra partita 3 a 2 È un gioco Che è letteralmente Collassato Su se stesso Non Mentre Per qualche Acquadono motivo Ci Cala 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 La 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 Sligo Vabbè Siamo a Ma i 30 Punti di stacco Credo che la Prossima Partita Potrebbe essere La Prosa Intanto Simulazione Veloce Simulazione Veloce Vinciamo Questa 5 a 2 Contro I Sligo Rovers Credo Credo che Siamo Matematicamente Campioni Credo Siamo Matematicamente Campioni Allora San Pazio Conestamente Mi sono Giocato Infortunato Chiroga Stop 3 Metri Quindi Finio Chiroga Va bene E Amen Se ne frega Mai non gioco Più niente Basta Anzi 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 Io Aspetta Vediamo Vediamo Un po Le cose Allora Qua che Dici Prendiamo Dica Migliore Qua cosa C'è Allora C'è Ok Ah Perché Non Ok Anfriz Va Non 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 le So Guardare Poi Vado Avanti Così E Sapere Che C'è Qua Simulazione Veloce Solo Questa Partita Vai E San Pazza Niente Perdiamo Perdiamo Qua in Coppa Pazienza Perché Mi sono Un attimo Stancato Sì Quarti Di finale Ok Va bene Così Va bene Così Anzi 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 Stagione Andiamo Così Andiamo Un po Più Brutali Ora L'unica Cosa Che voglio Vedere E se Per caso Spunta No 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 Per 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 Essere Certi Guardiamo Qua Comunque Campioni Siamo Praticamente Campioni Questo è Vinto Ok Scusate Ma Qua Non ci Siamo No 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 Va bene Basta Così Ora Basta Così Basta Così Ci sono Anche Un pochino Sto Fatto Arriviamo Fine Stagione Ok Avanza La data Sì Continuare Comunque Fai tutto Basta Così Tanto Il campionato Si è vinto Coppa L'Irlanda Si è vinta Tante volte Quindi Mancare la testa Chi se ne frega Io Era l'ultima Stagione Questa Volevo giocare Perché non avrei Avuto tempo Di fare altro Avrei dovuto Giocare Per giocarmi Le convenzioni Europee E non è Possibile Perché si è Baccato Di nuovo Io Basta Così Mi arrendo Mi arrendo A un A un gioco Che non sta In piedi A un gioco Che letteralmente Non sta In piedi Spero Vivamente Che FIFA 23 Ammesso Che io Mi decide Di giocarlo E di portarlo Il canale Il mio YouTube Spero Che Il 23 FIFA 23 Sia Un po' Meglio Vautazione Tecnico 51 Ma ormai Ce ne frega poco Campionato Abbiamo vinto Con 106 Punti Ragazzi 106 Punti 106 Punti Frutto Di 35 vittorie Un pareggio Vedete La squadra Che ormai Era Squadra Fuori parametro Quindi Capite Perché Mai il campionato Non interessava Più Non interessava Era la Champions Ma Evidentemente Il gioco Non me l'ha concesso Dispiace Dispiace Mi spiace Sinceramente Perché Era 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 una cosa carina Di base L'incampo Esplorare Il campionato Irlandese Una stagione Un po' particolare Perché Asincona Perché Ha Nelle Tempistiche Diverse Perché Inizia e Finisce In tempi Diversi Rispetto a Una stagione Normale Era particolare Mi piaceva L'idea Purtroppo Il gioco Non sa Gestire La cosa E quindi Va fondamentalmente Tutto a Carte 48 E Niente Non è Possibile Non è Stato Letteralmente Possibile Gestire La cosa E dopo che Quindi Signori Io mi Fermo qua Mi fermo qua Con FIFA 22 Questo è l'ultimo video Che vedete Di FIFA 22 Dispiace Avrei voluto Portarla avanti Meglio Questa Carriera Avrei voluto Concluderla Meglio Che Meglio Non vuol dire Intesa I risultati C'è Vincerà Champions Cosa Ma Concluderla Meglio Nel senso Di Avrei voluto Concluderla Con Una Con Una Degna Conclusione Che Sia Sia Che Vi Sia Una Vittoria Una Sconfitta Ma Almeno I gironi Almeno I playoff Che Non si Concludesse Con Un bug Ecco Che Si Concludesse Perlomeno In modo Dell'altro Anche Perdendo I playoff Gioglato Europa League Perdendo Europa League Anche Perdendo Lì Ma Fosse Concluso Avrei Prefitto Avrei Voluto Che Si Fosse Concluso In I Due Slot Dalla Prossima Settimana I Due Slot Che Saranno Lasciati Da FIFA 22 Vedrò Come Gestirli Vedrò Come Gestirli Onestamente Potrei Utilizzarli Tutte Due Per MLB E A quel Punto Si Va Spediti Su MLB MLB Che Con Contenuto Che A me Piace Fare A quanto Pare A voi Piace Seguire E Quindi Tanto Meglio Oppure Per Non Fare Farlo Diventare Un Canale Monotematico Potrei Intervallarlo Un po' Di Più Con Gran Turismo Invece Di farlo Una Volta A Settimana Potrei Farlo Due O Tre Volte A Settimana L'unico Problema E Che Gran Turismo Non Ne Quello Discorso E Niente Signori Si conclude Una Così Una Carriera Sui Fila 22 Con Mille Problemi E Questo Bug Probabilmente E Paradossalmente La Più degna Conclusione Di Una Carriera Su Un Gioco Altamente Problematico E O Perlomeno A me Che a me Nella mia Carriera Qua Su Fila 22 E Risultato Altamente Problematico Tra Bug Bug Audio Bug Video Tizi Che Compaiono In Campo Senza Motivo Competizioni Si Buggano Arbitraggi Senza Senza In Gioco Avete Visto Nelle Mimani In Gioco Collassare Su Se Stesso C'è Tutta Prevista Potrei Vederla Detto Questo Con Fila 22 È Tutto Per quanto riguarda il calcio Su questo canale Il calcio video Su questo canale Ci rivedremo Forse Su Fila 23 Ora Fila 23 L'uscita È il 30 Di settembre Ma voi sapete Che Con I I I Play Diciamo Te lo fanno Provare Un po' In anticipo Ecco Te lo fanno Provare Un po' In anticipo Comunque Detto Questo Per Per Fila 22 Tutto Solo Tutti Quanti Voi La prossima Sì